Sono riprese questa mattina, dopo due mesi di sospensione, le attività per 18 disabili presso il centro sociale di Urno di Penne. Dopo il via libera della ASL, finalmente la nuova cooperativa, la SGS di Lanciano, ha iniziato le attività accogliendo in maniera stupenda e mettendo subito al loro agio nella nuova sede i ragazzi, dove le attività ludico-ricreative torneranno a riempire le loro giornate. La sede però in questi giorni ha destato particolari perplessità, dubbi confermati in mattinata all'arrivo dei ragazzi sul posto. Il pulmino può fermarsi solamente nella piazzetta adiacente, costringendo gli operatori a fare diversi metri a piedi in qualsiasi condizione meteorologica. Ma non è tutto, perché stando alle parole di familiari e amministratori del comune di Penne, i disagi più grandi sono all'interno, dove la struttura, disposta su due livelli, presenta diverse barriere architettoniche che impediscono il facile accesso a stanze e bagni, di cui uno all'esterno, ai ragazzi che purtroppo sono costretti sulla sedia a rotelle. Sicuramente va apprezzato il personale OS che ce la sta mettendo tutta, però è una situazione che crea difficoltà e disagio. Possiamo mantenere questa struttura in questo ambiente? Sicuramente questa è la mia curiosità e la mia incertezza, perché purtroppo è un locale al centro storico che si presta per attività che però non devono essere utilizzate dai disabili. Io sono venuto direttamente per testimoniare questa situazione nuova, di un'accoglienza di questi ragazzi che stamattina cominciano un percorso totalmente nuovo, in una struttura nuova, alla quale volevamo con mano toccare e verificare le condizioni di accesso e di fruibilità del servizio. Siamo un pochino perplessi nei prossimi giorni, faremo anche ulteriori valutazioni. Una gioia questa mattina perché innanzitutto la dottoressa Dolce è disponibilissima e è stata anche presa un po' di assalto da noi. Non aspetta a noi cercare uno stabile idoneo, aspettiamo che chi debba farlo lo faccia e lo faccia anche bene stavolta perché chi ha rilasciato l'autorizzazione a questo locale sinceramente ora dovrà anche spiegarci come ha fatto ad autorizzare un locale del genere.